via tondo per due bene, però dai vai in sinistra due più attenzione destra tre, più, più di due più tieni per sinistra due, più non tagliare dosso, sinistra due, più per destra tre più vai 200 scicante, destra doppia occhio di gol 80 sinistra quattro vai 30 dosso destro vai 50 50 chicane destra doppia 60 attenzione destra quattro per chicane destra doppia e attenzione sinistra tre più chiude tre più stringi subito tondo uno uno dosso su destra vai continua quattro subito sinistra tre più pieni e destra tre più occhio larga 40 chicane destra 80 chicane sinistra chiusa per sinistra 5 subito destra 5 diventa attenzione tre meno subito inversione sinistra occhio qui ai morenmi per motta attenzione destra 5 vai diventa inversione destra 150 dosso dito 60 sinistra tre meno video stringi fine prova 80 tanto più ai